E da Solofra ha raggiunto Milano anche il sindaco, ovvero il primo cittadino Michele Vignola. Hai girato gli stand, cosa hai visto nei tuoi conciatori? Sì, per me ovviamente è un piacere, è un dovere essere sempre qui presente a linea pelle per incontrare gli operatori economici della nostra città che credo abbiano bisogno anche di vedere l'istituzione che è al loro fianco. Vedo dei segnali positivi, certo gli imprenditori mi dicono che non c'è certezza, non ci sono programmazioni a lungo termine, c'è molta incertezza, però ancora una volta la qualità del prodotto, gli articoli sempre più innovativi riescono a farci essere competitivi rispetto a quelli che sono i prodotti di base che purtroppo i paesi in via di sviluppo ci hanno sottratto come mercato avendo dei costi più bassi. Però devo dire che sono molto orgoglioso di girare negli stand dei conciatori solofrani e di vedere innanzitutto tante persone che visitano questi stand e soprattutto vedere veramente sempre tanti articoli nuovi, diversi e sempre più innovativi. Stamattina tra me e me dicevo che un sindaco è fortunato quando vede la sua gente e i propri operatori che hanno la capacità di realizzare questo prodotto che appunto trova in crocia soprattutto il consenso delle grandi firme della moda che sono quella pezzo di mercato che oggi ci fa stare ovviamente in piedi e ci fa resistere con l'obiettivo ovviamente di avere anche nuovi clienti perché non c'è dubbio che la gran parte degli operatori mi hanno detto che i clienti che già ci sono ritornano e questo già è un fatto abbastanza positivo ma non c'è dubbio che c'è l'ambizione poi di avere anche nuovi clienti. Noi ci diamo del tuo ormai da tanti anni che ci conosciamo, siamo partiti anche su alcune problematiche problematiche molto importanti, qual è l'ambiente, la qualità dell'ambiente e soprattutto la qualità di produzione. A che punto siete giù a Solofra? Allora non c'è dubbio che posta così la domanda dopo quattro anni da quando io sono arrivato qui da sindaco anzi prima ancora di diventare sindaco feci già una visita proprio in campagna elettorale qui a Linea Pelle può sembrare che siamo ancora al punto di partenza. Tuttavia si tratta di processi lunghi anni e anni chiaramente noi dobbiamo recuperare un gap anche rispetto, lo dico, con molta umiltà anche rispetto agli altri distretti industriali come della Concia, come Santa Croce sull'Arno e come Arzignano. Ma credo in ogni caso che l'interlocuzione che oggi abbiamo avviato con il nuovo governo regionale della Campania guidato dal presidente Vincenzo De Luca ci fa ben sperare sull'utilizzo della nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 perché finalmente la nuova giunta regionale, il nuovo presidente ha preso a cuore la vicenda dell'impianto di depurazione che va assolutamente quello di Solofra reso autosufficiente rispetto a quello di mercato Sanseverino e quindi diventare tutto biologico e soprattutto deve vedere la responsabilizzazione e coinvolgimento e la gestione diretta da parte degli imprenditori conciari. Questo discorso non può però farsi se non si fa un unico progetto che riguarda anche le fognature. Noi abbiamo già un impianto fognario industriale e civile separato così come abbiamo anche tratti di fognatura piovana. Bisogna completare questi tratti di fognatura piovana per evitare i troppo pieni quando ci sono abbondanti piogge. Bisogna migliorare e sostituire tratti di fognatura industriale e fare quindi un unico discorso con l'impianto di depurazione cercando soprattutto di avere un'autorizzazione unica ambientale unica per l'impianto e non facendo fare ai singoli imprenditori la procedura a tutti o ognuno perché quell'impianto è come se fosse l'impianto di tutti. Siamo in una fase avanzata di progettazione da questo punto di vista e quindi vogliamo cogliere questa grande opportunità dei fondi europei. Quindi se ho ben capito state marciando in una direzione molto molto importante. Hai detto benissimo quattro anni fa siamo partiti su delle idee e invece queste idee sono diventate operative. Sì adesso si vanno a concretizzare anche perché questo ci servirà finalmente a certificare il prodotto solo frano made in solo frano come prodotto eco compatibile. Cioè noi realizziamo un prodotto che si fa nel rispetto rigoroso di tutte quante le procedure ambientali di sicurezza sul lavoro di innovazione di ricerca scientifica e che quindi ci consentirà di conquistare nuove fette di mercato perché mi insegnate che ovviamente il cliente soprattutto quello dei paesi all'avanguardia dei paesi chiaramente che sono più avanti è molto sensibile ad un prodotto che sia eco compatibile che non fa male chiaramente e che sia realizzato nel rispetto della natura.